Il caffè nella mia quotidianità rappresenta in assoluto il mio primo momento della giornata, che sia di lavoro o di relax. Con Housebrandt ci siamo scelti per la qualità che entrambi proponiamo, l'etica e l'estetica che ha molti punti in comune. La ricerca dell'azienda è immensa e la qualità è altissima. Ha delle miscele molto particolari e il caffè biologico, per quanto mi riguarda, è uno dei migliori che io abbia bevuto. Ho viaggiato molto, ho girato il mondo, sono stato in molti continenti, ma sicuramente il posto che mi ha dato di più, come uomo e come pasticcere, è stato l'hotel rosa alpino a Sanctubertus, dove con Norbert Niederkofiar ho raggiunto tre stelle Michelin dopo 11 anni di duro lavoro. Il Pandoro Housebrandt nasce da un'idea comune con l'azienda di fare un prodotto della tradizione, semplice ma molto definito. Per me il Pandoro era abbinato al caffè latte alla mattina di Natale a colazione e quindi ho voluto riprendere un Pandoro, inzupparlo dentro un caffè latte e andarlo a caramellare, accompagnato con una crema pasticcera tradizionale, una quenelle di panna al caffè e terminato con un popcorn di latte fatto con la tecnica dell'azoto.